amici ed amiche del canale un caro saluto a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con la serie world of tanks come sempre ringrazio moderatori moderatrici gli amici le amiche i sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete diversi link fra cui naturalmente un link che vi permetterà di visitare i miei canali social il sito internet di pianibio.it poi naturalmente un link che vi permetterà di acquistare film ora scontato fino al 5 per cento buon inizio settimana naturalmente mi raccomando amici se non siete iscritti al canale fatelo perché per voi è totalmente gratuito ma per me questa cosa mi questa cosa permetterà al mio canale anzi al nostro canale di poter crescere saluto naturalmente i moderatori le moderatrici e tutti voi che naturalmente vi iscrivete buon inizio di settimana naturalmente scusate per prima ma c'è stato un piccolo inconveniente tecnico ok detto questo però non perdiamoci in chiacchiere e vediamo quello che ne viene fuori come dice il mitico nazare onesta che saluto naturalmente e che amici di youtube vi invito a passare nel suo canale ad iscrivervi mi raccomando attivate le notifiche fatelo anche per i miei canali social naturalmente totalmente gratuito ok però ho visto un mezzo qua sotto eccolo vediamo se riusciamo colpire vediamo se riusciamo colpire è certo ho scelto scelto mi sa che dobbiamo rimanere a difesa della base ma non troppo ah quello è un artigliere ok ok all right all right all right rather than a bella spray that's all right very well ah buffa mucheno bello e bailerino comos de carinos su to' la luce se rifleten l'orechinos occhialos da solos il codino raffanellos comos ballo bellos comos ballo bellos assicuriamoci assicuriamoci passiamo di qua perché questi prendono quasi sempre la via larga and so hi everyone welcome to this video thank you so much for following my social media channels thank you so much for following and supporting this channel don't forget to follow my social media channels it's completely free and you will let growing up them and don't forget to visit the internet site www.ipianibio.et thank you so much guila gaia carissima buon pomeriggio e buon inizio settimana e come dice il morena house 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 e tunzi tunzi aspettiamo tempo di finire qua e subito subito facciamo facciamo subito subito la shot out alla nostra mitica 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 gaia non so come sono in piedi mi sono inciampate aia spero sia veramente nulla di di doloroso insomma di di grave magica 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 gaia magica con 3 g mamma mia insomma ti sei fatto uno sgambetto ah hai ballato la baciata con il pavimento ha capito ahh ah ça va E vabbè, l'ha fatta. Allora facciamo una bella scuccatella di mani alla nostra Gaia e le auguriamo naturalmente buon inizio della settimana. Amici mi raccomando andate a seguire anche la nostra mitica Gaia che vi farà scompisciare dalle risate e di più di più di più assai assai. Mamma mia, comunque ho notato quei caspiti di carretti. Quei carri leggeri sono veramente fastidiosi. Non sono riuscito a vedere da dove arrivava la fiammata, non la sono riuscito a vedere. Dai dai che manca poco. Se ho di stick mi sono inciampate sull'orecchio. Ah, stic... Stif... 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 Stifler. Stif... Stift... 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 ma questa che fine ha fatto ebbè due contro uno ma fa' mi dire, ma ora sta qui ahia 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 questi sono stati bravi tunzi tunzi alè tunzi tunzi alè ali proviamo a vedere un attimo una caos ma prendiamo l'altro carretto e vediamo cosa ne viene fuori come dice la nostra gaia la nostra mitica gaia prendiamo questo visto che l'abbiamo acquistato almeno riusciamo pure a soffrire un po mitica mitica gaia mitica mitica gaia mitica gaia le ale tu setto soli alem applausi per gaia ragazzi la nostra Gaia è uno spasso cioè che ci intretiene e ci fa compagnia e allo stesso tempo ci fa anche ci fa anche qualche rimproverascio ogni tanto vai Gaia che cosa vuole rimprovere soprattutto a questi carri qua questi a questi cannonieri che ultimamente sono un po' scarsini però aspetta facciamo una cosa proviamo a prendere se ce l'ho eh l'ishter eh l'ishter questo vai vediamo un po' l'ishter e tunzio e tunzio ali un po' lentino oggi purtroppo oggi i server sono intasatini intasatini intasatette intasatelettes hashtag e tuz tuz anzi hashtag word of tanks e li mandiamo a riposare li concediamo e magari un colpettino ai loro mezzi non farebbe male willa hashtag moreno è tornato torna sta casa aspettate il ponte di bruccolino mitico moreno buon pomeriggio buon inizio della settimana naturalmente amici ed amiche di twitch ma anche di youtube vi invito a passare anche nel canale del nostro moreno ad iscrivervi mi raccomando attivate le notifiche e naturalmente quando vi iscrivete al suo canale mi raccomando portate naturalmente i miei salutation thank you everyone grazie 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 e io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese va bene 120 lire al mese sembra alloggio vittoravano un'impiegatura e stiratura d'accordo d'accordo eh sì ci vuole ci vuole quando se chi se vuole se vuole tu sia tu sia lì tu sia tu sia lì ahiaiai ho già fatto sette visualizzazioni mamma mia mezz'ora fa lo anzi mi pare che dovrebbe essere ancora in premiere credo io purtroppo quelle questioni di tempo ci mi sono completamente dimenticato ah no questo è quello di ieri ok ok tutto apposto ah spiro sta strizzicando alla fascia del bicarbonato di sodio spero sia qualcosa di molto ma molto leggero insomma che non sia ah ah alla faccia del bicarbonato di sodio esatto come di e io vago e io vago comunque moreno per far funzionare i pomodori una volta che hai riscattato lì i punti poi devi andare nella schermata dove ci sono le icone e da lì poi ti fa lanciare i pomodorini me lo sono andato a studiare quindi dovresti vedere se sei da dispositivo mobile dovresti trovare una una schermata e dovresti trovarla nella schermata la vabbè comunque qua abbiamo un artigliere oh vabbè io vado qua dove c'è potenza di fuoco maggiore perché altrimenti qua non duriamo nemmeno dieci minuti no quello è gratuito tu riscotti i punti canale poi da lì mi pare che si dovrebbe fare dammi solo dimmi solo se è così che è scritto in inglese diceva che si riscattano i punti e poi dall'altra parte si si fa la situazione preoccupare cambio posizione per dare supporto ok poi devi abilitare la pomodorata la vediamo se funziona allora visto è così lo facciamo per morire non so se funziona ma ecco qua vabbè in tutti i casi quello che non riuscite a la fa la fa boom e questo voleva sfidare zio di giri hai visto morì ah vabbè lascia stare allora non fa niente allora vuol dire bene aia mi hanno fregato eh ma quelli dormicchiano allora vediamo un attimo come funziona aspetta boh allora mi sa che devo devo vedere bene la configurazione caspita caspita hai fatto un fuori budget insomma hai fatto un fuori budget insomma lo potrebbero fare un po' più semplice vabbè me lo devo studiare per bene andiamo avanti andiamo qua che altro c'è oh questo se questo se e vabbè questa starà dormicchendo dai 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 che poi ti ritroverai. Ma questo che è il tipo di carro che fammi vedere? Allora uno sta a casa dormendo. Uno sta qua e questo c'è lo stesso carro mio. Questo vuole farsi fare la frittura all'ultimo momento. L'altra notte ha smesso di funzionare. Ah dopo due anni e mezzo e vabbè. Solitamente c'è la programmazione. Diciamo che c'è un tetto massimo mentre il quale poi questi dispositivi devono smettere di funzionare. Funzionalità programmata pare sia. Insomma pensa che io ho un televisore che ce l'ho da 13 anni e dopo 13 anni ha iniziato a darmi il problema è il pannello. Ora non so se il pannello o se la retroilluminazione. Quindi mo' è tutto da cercare di vedere un po' il tecnico. Che cosa dice se ne vale la pena recuperarla. Cioè recuperarla. Se è una spesa diciamo buona che non viene a essere particolarmente costosa. Diciamo che è. Sono rimasto con cinque... ah 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 beh c'è stata una spesa improvvisa. la caccarelle numero 5 gigin pepino parolaro e cala la sapevo la sapeva quelli sono intelligenti sean fricotti ah quella è rimasta da sole vabbè vai vai ts power guarda ts power se riesci a vincere ti faccio una grande scuccatella di mani un grande applauso bella la musichetta epica del giochino ma forse ti sarebbe costato molto meno portarlo a far controllare da un tecnico no un sensore non credo così una cifra esagerata vabbè però hai fatto la tua scelta quindi ci mancherebbe allora vediamo un po' se si riesce qua oh ma non mi fa proprio uh gg aia uh azze ne sono due stanno la stanno eh e vabbè gli hanno fatto la cartella gg my friend ah e vabbè questo si perché va c'è tutto il cibo da da conservare questo ci sta ci stai ci stai ci stai ci vuoi fare ci stai dice ci vuoi fare salento le sole l'umare l'uento allora vediamo un po' quando abbiamo guadagnato guadagnare di più vediamo un po' che dice l'uomo abbiamo fatto proprio una magra figuraccia articoli per gettoni no grazie thank you but i prefer do not spend allora io qua però che tenivo questo vabbè va allora muoviamo ehm questa si se non basta molto da giocare poi uso da noi eh si 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 vabbè diciamo che si maggiormente d'estate si utilizza un po' di più perché poi ci conservi anche molto più cibo quindi è tutto è più utilizzato d'estate infatti la maggior parte dei frigo si rompono quasi sempre d'estate è capitato anche a me con un altro vecchio frigorifero oppure si è rotta la ventola che mandava in circolo l'aria fredda e quindi un bel problema però poi il tecnico fortunatamente con è riuscito a sostituirlo perché era anche complicato Comunicato ok Ok Morino, grazie di essere passato, resta in Lurk, a Radio Aziotab sono le ore 15.56, l'ora esatta vi è stata offerta da Caffè Patacca, il caffè che ci pacca, in collaborazione con I Piani Pio, mangio bene anch'io. Caro Gaspari, buon pomeriggio e buon inizio settimana, la mia zia si è rotta il 15 agosto, ah il compressore, ecco la mamma mia, è stata proprio poco fortunata direi, mi sapeva proprio il 15 agosto, pure pensa quando magari ti viene, che ne so, un dolore, quanto è che ti deve venire a Ferragosto. Grazie Gaspari, buon inizio di settimana naturalmente, gli facciamo una grande scuccatella di mani al nostro Gaspari, Gaspari, che è sempre presente. E tutti, e tutti. Houston, Houston, e tutti sono come stai, tutta apposta, tutta apposta, tutta apposta, spero lo stesso di te. A proposito, saluto la mitica guerriera, che è un sacco di tempo che saranno un paio di settimane che non la sento. Comunque, cara mitica guerriera, un abbraccio, un saluto a te, e saluto alla mitica Jenny da parte mia. E approfitto anche per salutare il presidentissimo, la zappa storta, insieme al mitico Maurizio Max, con la Elisa. Insieme al nostro mister, ah, yeah, yeah, aliasso official, naturalmente. E vi invito a passare nei loro canali, ad iscrivervi e attivate le notifiche. Nel frattempo, quanto tempo è passata qua? Faccio la miseria, tre minuti. Uh, cambiamo, vediamo se riusciamo a far partire con quest'altro qua, vai. Oggi i server sono particolarmente in tassatucce, ci sta un sacco di gente. C'è un sacco di gente, oggi, e si sembra molto abitati. Allora, nel frattempo, nel frattempo, mettiamo questo, vai. All'ependici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Oh, ma oggi i server sono intasatissimi. Facciamo così, facciamoci un po' di addestramento. Andiamo a... Ah, vediamo se riusciamo a completare la Ruinberg. Questa è veramente complicatissima. Mi manca solo l'ultimo pezzo che non riesco a superare. Nel frattempo... All right. Nel frattempo che si sbloccano i server ci facciamo questa... questa fase qui. And... looking for... un-busy... the server. So, i will try... this... tutorial. And... I will try to... see if... we can... get in the battle... or not. Ahem... Ok. You need to reach the firing line and destroy all targets. Yes, sir. As you wish. Yes, sir. No, lady, 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 baggrado, so. Go reach out. Focable on down. Ok. All right. Are wrapped in a bella sprite. C'è un carro... c'è un cacciacarri... più avanti. Che è una vera e propria rugna. c'è... 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 More of a... tank destroyer... that... they are... very... hard to destroy. Ok. Ok. ok what the lava ah ah mamie mi chiamo stango or not no, i have the tank destroyer target target acquired enemy is hit enemy armor is destroyed target acquired penetration let's go shoot shoot go 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 my friend go 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 speriamo di non fare brutta figura let's try to to not fail this part of this map it's quite hard to to pass your task is to destroy all targets but first reach the firing line yes that's what you wish you're on the firing line destroy the target target acquired target acquired enemy armor is damaged oh 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 la la attention oh 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 boom oh 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 yes sir as you wish as you wish as you wish yes sir pick oh what's going to happen Qua è un po' complicato Ok, questo è andato L'è l'espa Shoot, shoot Shoot, shoot Shoot, shoot Shoot, shoot L'è l'espa Oh la la Last one Ne manca uno, voglio, speriamo di non fare brutta figura I opto To destroy the very last one But this one is very hard to hit Very very hard to hit Hit Allora, vi sta rossa Boom Shoot, shoot Boom, nothing Target unlocked You need to destroy all targets Enemy armor is hit Ready to fire, target released Oh Yes GG GG, my friends Oh, yes GG GG Error 404 Anniamo bene Allora, dovrei... Perfetto, abbiamo complicatato tutti, tutti i livelli Ok Però adesso vediamo se riusciamo a farci una scambagnata Scambagnata Una bella scambagnata Aia Spero sia roba di... De puo' ecco conto Ti offro un bel caffè, vai Caffè patacca, il caffè che sbacca Esattamente, hai parlato pronto bello Allora, vediamo un attimo a Morenaus Il nostro amico Moreno oggi ha pubblicato un video Allora, eccolo qua Perfetto Mettiamo in pausa Così non si sente il suo Ovviamente Vi invito Ad andarlo a guardare Ecco qua Ok Questo assomiglia molto al carro di Disco Di Disco di Germania Allo, mein Freund Dame und Herr Ah, Duncan Ladies and gentlemen Thank you so much Everyone Guas 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 Guayu Non si capisce niente Non si capisce Go, go Peccate che non funzionano sti cannoni di anti carco Di anti in generale È un po' lento ovviamente però Vediamo se siamo Dopo la seduta al trono Il trono carica per patate Eh sì Ho capito di quale trono stai parlando Che fa trono Il trono diciamo che si dà delle arie Oh cavallaccio Oh cavallaccio Ah Ai 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 Mi frattempo io Oh ma nessuno a me mi sono messo tutto bello risposto qua non sono riusciti a capire da dove arrivo ah eccolo wow non la via da roba su qua stiamo dar dar ne rimangono due allora so che c'è di nuovo io vado a conquistare la stazione ferroviaria questa è andata qua c'è una bella scioccatella di mani luciano carissimo scusami non ti ho proprio visto anzi non ti ho proprio letto buon pomeriggio a te buon inizio di settimana caro mitico luciano mi raccomando ragazzi amici ed amiche correte nel canale del nostro amico luciano attivate le notifiche iscrivetevi mi raccomando e come dice moreno tunzi tunzi anzi direi tuzze tuzze figuro di luciano morino che dici gli facciamo tariffa piena o facciamo tariffa scontata a luciano facciamo così gli facciamo un mezzo gli facciamo un bel servizio che non si dimenticherà più va bene allora aspetto tanti everons poi per tutto il resto parla con il mio manager moreno e la cassiera invece ci abbiamo alla cassa ci abbiamo la nostra mitica gaia quindi non non scappa nemmeno un centesimo e non fare il furbacione metti gli everons possibilmente l'everest anzi everons everest come dice il verbo essere dell'everest e tuzze e tuzze come direbbe ovviamente my friend moreno my friend ok questo è complicato ma se questi non vanno là vediamo un po' io già so che questi se ne vanno in mezzo al villaggio oi da chi sta cambio a proposito c'è sta gaia c'è morino poi c'era anche gaspari che è passato a salutarmi anzi a salutarci chiedo veni e chiedo scusa è passato a salutarmi non so se c'è ancora o se è in lurk se sta lurcheggiando forza forza ragazzi a salutarmi a salutarmi nessuno sa farci qua per qualsiasi cosa rivolgete che è la nostra mitica gaia è una soddisfazione tutto sbappo su farming sembri il capo anche su ets aie 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 il mio nome è alessandro paolo supertac per Unlock Unmai armor is damaged Target fired Unmai is hit Moschar Recapitad Where you to go Need an objective And a thought He's putting Atlantis Unmai it Moonление Benetration Sì Oh, vai Grande morino, grazie Ora ce l'abbiamo fatta Aspetta un attimo con questo Vai, vai Nel spa Non l'abbiamo nemmeno graffiata, la so Dai, dai Caricat, no vada Oh Niente Dai, dai, dai Che è la prima volta nella storia che vinciamo con questo carro This is the very first time In the history of this tank That I won, I won Oh, gg Gg Ok, va bene All right, morino Applausi Aie, aie Non male Abbiamo beccato una squadra che è tutta sommata Applausi Ciao Gaia Vediamo Ah La saluta da te, scusami Ma lui c'ha Ci vanno giù particolarmente Boh E tuzzi E tuzzi Allora Vediamo un po' Dunque Qua Come siamo messi Allora 40 10 Oh, so proprio io che secondo me A parte che la chat In overlay la La leggo ma Non so nemmeno come faccio a leggerla così Insomma Che Questo gioco è parecchio Impegnativo E quindi richiede anche un po' di Concentrazione Concentrazione Cacau Meraviglia E tuzzi E tal E morena Aus E tuzzi Taus Aus E tuzzi E tuzzi Soia 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 Vediamo se qua riusciamo a fare qualcosa di buono Allora andiamo verso La costa vai Qua giù Costa Tutti quanti a costa Accostate Ok Per il momento siamo in due Che andiamo sulla costa Chi si vuole aggregare Si viene a fare pure i bagni Insieme a noi Oh Sei sbloccata L'icona Ah Finalmente Mi sposto per coprirti le spalle Ti devo un favore La disposizione Ma finalmente ci siamo riusciti a sbloccarla questa Questa icona E questo m'ha visto Il giro A presto Il giro Il giro Il giro Si Ah Si 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 I don't see the target. Target acquired. Penetration. Penetration. Hydrox are down. We have to see a great turn. Aiya. No, Pandozzo, Pandozzo non esiste più. Quello è Ginger Ozzo. Pandozzo e K.O. No, no buono, no good, Pandozzo. Però mi ha divertito, Pandozzo. Ginger Ozzo. Eh vabbè. Anche quello, chissà. Appena hanno cambiato tutte le cose. Devo andare a scoprire come... Come si fa, eh. Ma allora, questa sta qui, Pillar. Gish. Eh, ma andiamo a dare con Gish. Sveglia. Sveglia. Contrappello. Uh, uh. Danno critico. Contrappello. Artiglieria. Artiglieria. Si è messo il panno, il panno lozzo. Artiglieria. Ghiesta di fuoco sulle coordinate. 5, 4, 3, 2, 1. Fuoco. Caterpillar. Ah no, questo si chiama solo Pillar. Vai, va. Puff. Ha fatto che l'ho allo scavhaus meraviglioso. Ora non sono riuscito a vedere da dove... Beh, è partito il lancio, ma dovrebbe essere quasi sicuro a mezzo e mezza di Gish. Pugilla. Eh, infatti. No, 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 no. c'è qualcuno vai qua aia aia stiamo diminuendo in forza vai vai dai 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 a house a house dar 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 shu 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 sta facendo merenda sta facendo carica merendoria il nostro morina natch natch hashtag carica merendoria oh e chi è che l'ha colpito mackist whatsapp ms1 ms2 ms3 ms lo zio dabba ha fatto la battuta ms2 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 quello ma si va quello ma si va mettere si va prendere la posizione la posizione guardiamogli le sepulle oh c'è un colpo allo stesso si sta in bosca da qualche parte non l'ho visto però il colpo da dove partiva carica merendori anche carica eh si quella ci vuole nooo peccato è stata una battaglia abbastanza duretta questa qui caffè padacca il caffè che è spacco belline queste icone ma sono le nuove icone di twitch what are there e tuss e tuss allora vediamo un po cosa abbiamo combinato dettagli dettagli no non mi interessa allora andiamo qua vediamo cosa abbiamo fatto l'ultima allora abbiamo danno medio 120 ok diciamo che non è proprio il massimo questo carro però è molto alto allora qual'altro c'era facciamo questo questo qui e vediamo cosa ne viene fuori oh moreno sta facendo colazione altro che altro che merenda sta facendo proprio una colazione abbondante al bar moreno c'è tutto e costa meno oh questo è il carro che non sei riuscito a capire ancora qual è questo sarà un carro premium se jason magari si fa una cavatina sicuramente lui che è più esperto di me mi saprà dire ah questo è ostria quel carro ok pure questo ce l'ha allora fammi fare un attimo due calcoli allora stiamo qui ok se ne stanno andando dieci di loro lassù a posto cambio posizione per dare supporto oh tasto z vaiù tasto z vedo ah lui ha bisogno di essere spinto ok che mi sa che il carro è pesanduccio oppala vai così mi copro ho visto ho visto brillare qualcosa lì ah no quello è il carro copri 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 guarda chi sta ma aveva visto guarda questo ok Grazie a tutti. Aia, ebbè, ci hanno attaccato una alla spalla pure, con l'A3 andato a fare la frittella, però ci è mancato poco, eh? Ci è mancato veramente proprio poco, 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 poco. Tanto, 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 tanto. Eh, questi si appostano qua, grazie al... Esci, Paul. Uh, eh, vabbè, non è possibile, si fermano là sopra, grazie al cavolo che non ce la facciamo. Sono bocche da fuoco in meno, voglio dire, ma... Potenza di fuoco in meno. Andiamo un po', questo sta... Ah, ok. Medium 1. 1, 78. Ah, ieri, mi sa che qua la perdiamo a mani basse. Ed... No, non c'è... Sei, guarda... MeltBei è migliori, preziano non ci, torna sta casa aspetta a te quando ne sono rimasto 4 al 1 sta qua sta qua sopra un altro sta sì ma nessuno di questi si muove però sa tranne queste che muove genic genic le papi genic world of tanks winner fagli fare azzarola mi sa che questo è proprio bravo eh quindi perciò si chiama world of tanks winner che non è il famosissimo gelato degli anni novanta per chi sa cosa di cosa sto appellando effettivo l'SBI gelato carica gelatoria voglio non vorrei dirtelo ma sei rimasto tu solo eh quindi ora a te wow bellissimo aspetta mi pare che a mister ayer ha fatto un paio di un paio di giù gli avevo portato virtualmente no pure a te mi sa e anche a messia la zappa storta io le avevo portato beh vabbè uh gg a quello quello un colpo dai 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 l'u boss l'u boss ci vuoi fare dai 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 no la aspito mamma mia e vabbè ma questi se la sono preparate tatticamente la partita di pallone aspetta il caffè mi pare che c'era qualcosa del caffè era tipo ghiacciato caffè ghiacciato qualcosa del genere non so se l'ho portato pure a te o l'ho portato solo a qualcun altro mi portavo direttamente da from napoli with love con le uova allora vediamo un attimo qua allora questo sesto senso beh qua ci vuole tempo poi il capocarro questo è il pilota caporale mimetismo valenschi valenti volwalsch insomma allora ritorniamo con questo vediamo se siamo fortunati eh lo sai mi sono dimenticato ovviamente sempre con il turbo star no aspetti mi pare che era il venerdì se non erro sì 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 era il venerdì la serie che portavo il venerdì perché col turbo star ho percorso tutto il perimetro europeo delle mappe disponibili poi ho fatto l'ho girata per una seconda volta pure poi ho fatto no la prima è stata quella di collegare tutte le capitali europee poi dopo ho fatto il giro del pila il perimetro percorsi perimetro europeo ed è stata una bella esperienza torna sta casa aspettate aspettate tu ti ai tu sa morino torna su di torna su di torna su di torna su di miro marro quanto è bello spira tanto senti in mezzo allora ma di mattanti che ne so ch'è tantica chute il che panca così Devo Anche lì devo Rivedere Un po' Il pannello della fibra ottica Eccolo Marino L'hanno portato Salutiamo naturalmente tutti i tecnici Telefonici Elettrotecnici E chi più ne ha più ne vittà Allora questo è il muro Here there is the wall Smoke on the water The fire in the sky Smoke on the water The fire in the sky Dai firma Mini Non toccare mia amica Tu non toccare mia amica Altrimenti ho fare tutto Sopra 5 L'ho 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 Ok Ok Marino Grazie di essere passato Naturalmente Ti amore ancora Una buona continuazione Di serata Buon inizio di settimana Naturalmente Poi ci sentiamo A tutto Tutta l'ora E tutti E tutti Thank you Moreno Dai Moreno Dai Oh Ho sentito Ti Aspetto Moreno Sperando che non mi fanno la pellam Ti faccio pure la scuccadella di mani Thank you so much My friend Permission to engage Penetration Whatever tracks is damaged Ricochet Genove is hit Where do they go? Cioè ma questo voleva Vuole fare il prepotente Volesse fare lo prepotente 18, 19 e 20 Allora quello solo è rimasto Vai giù Ready to fire Enemy armor is hit That one didn't go through Guarda là Per quanto Wow Guarda là Dai Ma per quanto Non ci sono riuscito Dai dai Band match Wow Questa è stata veramente Assurda Absurd Absurd Ci eravamo quasi E davamo a canicchia Al bar Che valevano cangiare Il mondo Popom E davamo a canicchia 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 allora diamo un attimo allora del cane calcomania 50 battaglie già l'abbiamo fatta no non ancora e quasi nulla ancora di tempo allora ci facciamo un'altra battaglia la causa danni a 15, ok quindi 20 su 45 questo è lungo questo qui questa situazione si lasciamo quest'altra quest'altro match poi ci congediamo e ci becchiamo naturalmente domani alla solita ora mi raccomando se non siete ancora iscritti al canale fatelo perché è totalmente gratuito e poi ovviamente permetterete a questo canale di twitch ma anche di youtube di farmi conoscere e mettere un seguire questo canale attivare le notifiche lasciare un like a video poi non costa nulla ma vi assicuro che a me invece permette di poter essere nei canali consigliati e quindi se i miei contenuti vi piacciono naturalmente vi invito a lasciare un bel like ovviamente saluto anche gli amici che in questo momento su youtube stanno leggendo i sottotitoli nella loro lingua e chi non è l'italiano naturalmente a voi va un ringraziamento particolare per il vostro sottotitoli per il vostro seguito ovviamente anche gli amici italiani e suon thank you so much for rinier followers of my search media channels to you i give you a special thank special thanks to you vediamo se riusciamo a circondarla senza essere beccati da qualche altra squadra oh qui c'è la bangarella dei fammi stesi ciao eh beh è andata così ma dove sta qui là sta là sta e vabbè vediamo come va a finire poi naturalmente noi ci congediamo e ci ci vediamo domani per voi amici ed amiche di twitch saremo online tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 in poi fino alle 17 più o meno voglio quello è un carro pesante francese dopo lo strisce cioè questo sta in mezzo lì e manco si allontana e vabbè jess si è proprio un jess e vabbè chi è rimasto questo è rimasto questo è rimasto questo è rimasto questo è rimasto sotto però voglio due artigini e vabbè il ultimo è rimasto il survivor è un po' complicato di resistere 5 e 4, 3, 2, 1, track repaired, 10, fix oh ragazzi io direi che oggi abbiamo fatto una cosa molto importante cioè quella di riuscire a sbloccare tutti i livelli per quanto riguarda la parte della topografia infatti vi faccio vedere che off camera ovviamente mi sono anche portato avanti un po' di cose quindi abbiamo completato diciamo la parte base poi ovviamente vedremo più in là eventualmente se continuare o meno questa sessione approfitto ancora una volta per salutare e ringraziare Moreno ringrazio Gaia ringrazio il nostro Luciano che è passato a salutarci ringrazio Gaspari ringrazio Gaia non so se l'ho detto ringrazio tutti quanti voi che siete rimasti a guardare questo video naturalmente amici ed amiche di YouTube come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link che vi permetterà di acquistare i giochi scontati fino al 70% i miei canali social che naturalmente vi invito a seguire un link che vi permetterà di acquistare i prodotti della Filmora in particolare Wondershare Filmora perdoni i prodotti della Wondershare Filmora ma ci sono anche altri prodotti naturalmente nella descrizione trovate il mio link di affiliazione così come troverete naturalmente il link che vi permetterà di acquistare dai Piani Bio naturalmente visitate il sito www.ipianibio.it mi sembra di aver detto tutto quindi ringrazio ancora tutti quanti voi per esservi fermati fino a questo momento grazie mille a tutti thank you so much e stato buono a you grazie alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro scegli il vero bio italiano, buono e genuino scegli i prodotti di I Piani Bio I Piani Bio, mangio bene anch'io www.ipianibio.it ci trovi anche su Facebook ed Instagram www.ipianibio.it 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 Grazie a tutti.